Oggi vi faccio vedere... Ah no, aspetta, scusa, scusate. Mi devo cambiare, no, vero? No, va bene. Cosa volevi vestirti? Da mini? Oggi facciamo una ricetta, le polpette. Visto che avevamo rimasto il pollo... Ma avevamo rimasto, lo diciamo, solo a Ravenna. Ci era rimasto, ti prego. La maestra d'italiano ti dà quattro. Va bene. Ciao, oggi facciamo le polpette perché c'era avanzato il pollo. Il pollo da ieri. Allora faremo le polpette, che è un piatto che a me piace tantissimo, usando il pollo e altri ingredienti. Mamma! Allora, ho sentito quello che vi ha raccontato Emma. Dunque, ieri sera avevo preparato del pollo al forno, l'abbiamo mangiato ed è rimasto. Visto che questa sera riproporre il solito pollo non ci andava molto, abbiamo pensato di fare le polpette. Ok? Ok, cominciamo. Sì, allora facciamo che io disosso il pollo e lo trito, mentre tu in una boule... Non devo prima schiacciare questa? No. Allora, per prima cosa dobbiamo mettere il pane raffermo, lo tagliamo a cubetti e lo mettiamo dentro con il latte. Ma dici che è ancora pane? Sì, sì, mettere pur tutto. Pesiamo più o meno la carne che ci è avanzata e poi aggiungiamo un po' di macinato di manzo, in modo tale da arrivare circa a 500 grammi. 500 grammi di carne, più o meno. Poi, sai cosa posso fare? Trito l'aglio. Anche l'aglio è uno di quegli ingredienti che potete scegliere di mettere o non mettere. A noi, in Romagna, l'aglio lo mettiamo anche nei dolci. Sì, ma non dobbiamo copiare gli altri, lo mettiamo perché ci piace. Va bene, perfetto. Posso mettere quindi il latte e le uova. Esatto, tu metti il latte e le uova e spappoli un po' il pane. Deve diventare compatto? Esatto, dopo ci aggiungi, ce l'hai fatto un macello, Emma. Eh, grazie. Sì, dopo aggiungi la carne macinata, il parmigiano e la carne avanzata. L'avanzo della carne. Quando vuoi iniziare a mettermi della roba? Mettui io? Sì. Ok? La carne macinata, il parmigiano. Ma aspetta! Sai cos'è? Ma così mi... Io il parmigiano a occhio ne metterai un po' in più. Ma però non me lo... Sì, sì, te vai, vai, impasta, impasta. Come stanno venendo? Bene. Perché se sono un po' troppo morbide... Sì, sono un po' troppo morbide. Sì, vabbè, il pane ne hai messo metà. Aiutate. Adesso ci aggiungiamo un po' di pangrattato. Le sistemiamo così come vengono. Qua. Mescola tutto insieme. Assaggiamo. Vai, assaggia. Sudo. Qui è... Altro che pizzari. Sale. Ma non sulle mani. Dai, dai. Mettiamo... No, Pepe no, basta Pepe. No, non ce l'ho mai messo il Pepe. È perché non ti piace il Pepe? Sì. Ah, ecco. Allora, ti dico una cosa. Tu stai continuando ad impastare solo quella sopra. Devi prendere da sotto, girare, se no quella sotto... Brava. Buone. Sono molto buone. Vado a lavare le mani. Ok, ti aspetto. Ti controllo. Oh, non si può far niente, eh. Non si può far niente. Ti sgama subito. Io direi che possiamo iniziare a fare delle palline. Più le facciamo grandi, più è difficile cucinarle, perché potrebbero bruciarsi fuori e essere crude dentro. Se invece noi le facciamo piccoline o leggermente piatte, fanno prima cucinare. Ok, mi segui come ragionamento? Tu le fai, le butti lì dentro, io finisco di appallottolarle. Poi quando ne abbiamo un buon numero, le cuciniamo. Le mettiamo sempre una dietro l'altra, così quando è ora di girarle sappiamo quale è stata messa prima e quale dopo. Ok. Mamma, lo so che si fa fatica a cucinarle, ma ne facciamo una grande. Una. Una grande, basta che sia schiacciata, come una svizzera. Va bene. No, non così grande, dai. No, prima la faccio così grande, poi dopo vediamo ancora. Una polpetta gigante. Sì. Eccola qua. Ok. Hai fatto la tua bella polpettona. Non l'ho mai fatta questa cosa. Non sarà proprio tonda, tonda. Ecco, il mio lasciar farema questa c***a fondamentalmente. Mamma, lo guarda anche i bambini. Sì, però è come mamma per non bloccare la sua creatività, perché se io ogni volta che lei ha un'iniziativa, una voglia, un desiderio, le viene un guizzo di fantasia e io la blocco, poi mi sentirei in colpa. E quindi noi facciamo questa polpetta, magari le farò vedere davanti a questa occasione che fuori sarà bruciata e dentro crula e così avremo imparato qualcosa di nuovo. Se ti fidi e vuoi un consiglio, la schiacciamo un po'. Perché se no là dentro non si cucinerà mai. Un po' io. Ok, tu me la schiacci un po'. Esatto, perfetto. Va bene. La mettiamo lì e dopo cuciniamo il tuo polpettone. Così, dai, questo concedimelo, va bene? Ah, vi insegniamo il segreto. Le polpette in più le potete, una volta cotte, anche congelare. Così se una sera, mamme, avete fretta e non sapete cosa preparare per cena, vi è sufficiente tirar fuori le polpette dal congelatore, e fare un bel sughettino con un po' di cipolla, un po' di pomodoro e fare le polpette al sugo per i vostri bambini. E piaceranno sicuramente tanto. Scusami, ora rilavoro le mani. Polpetta gigante. Tutti scompliti. Ok, perfetto. Puliamo? Perché ridi? No, niente. Ecco, per friggere le polpette l'olio non deve essere troppo alto. Non stiamo friggendo delle patatine fritte che sono proprio sottiline, ma avendo comunque un bel diametro e dovendosi cucinare anche all'interno, la cottura, la temperatura dell'olio deve essere un pochino più bassa, sui 150 gradi. Secondo me ci siamo, eh. Questa no. Sai perché no? Perché è troppo grande. Prova a immaginare come verrà quella lì. Io ti faccio provare, eh, per carità. Oh, che belle! Senti come sono leggere. Sai perché sono così leggere? Ah, non le sento adesso. Senti il suono, si capisce già che sono leggere. Sì. Perché noi ci abbiamo messo il pane. Il pane è pesante, mica è leggero. No, il pane è molto leggero. No, il pane è molto pesante. Adesso metto il tuo polpettazzo qua in mezzo, guardalo lì. Con tutte le piccoline intorno. Ah, è più pesante. Un chilo di pane e un chilo di polpette. Un chilo è, un chilo è, un chilo è, un chilo. Giusto. Cosa vuoi fregarmi a me? Sì. Tu sei nata ieri, eh. Sì, ci possiamo assaggiarle? Queste sono stra buone. Buone. Consenta. Sì. Brava, Emma. No, brava. Allora, il polpettone mi sa che non lo vedrete, perché ci metterà un anno, due anni. Però, giuriamo che lo stiamo facendo, lo stiamo cuocendo. Allora, noi le abbiamo assaggiate e sono stra buone. Sì. Ancora più buone del polo di ieri sera. Sì. Quindi, per non buttare via il polo, abbiamo fatto le polpette che sono venute ancora più buone. Così vi abbiamo dimostrato che veramente si può non buttare via nulla. E se le ha mangiate Emma, che è super mega delicatina, vuol dire che sono veramente buone. Sì. Ok? Grazie a tutti. Ciao.